Questo video riguarda i migliori tre padelle. Il vincitore della qualità è l'Amazon Basics Set di padelle. Usa queste padelle per qualsiasi cosa, per rosolare aglio e cipolle o per preparare un cremoso riso pila fai funghi. Queste padelle offrono una base ampia e piana con lati leggermente curvi, perfetti per preparare un omelette la domenica mattina o per far scivolare il formaggio fuso dalla padella al piatto senza sforzi. La padelle presentano un rivestimento antiaderente, il quale permette di cucinare con pochi grassi e senza bisogno di aggiungere troppo olio o burro. Inoltre, il rivestimento antiaderente evita che il cibo si attacchi alla padella, al contrario, potrà essere trasferito dalla padella al piatto senza sforzo e con eleganza. I lunghi manici sono progettati per rimanere freschi durante l'uso, offrendo una presa salda e comoda. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Kitchley Set di Padelle. Il set contiene tre dimensioni ideali per l'uso domestico e per l'uso all'aperto, ovvero una padella da 15 cm, una padella da 20 cm e una padella da 25 cm. La mancanza di ferro è diffusa in tutto il mondo, soprattutto nelle donne. La cottura di cibi in una padella in ghisa può aumentare il contenuto di ferro fino al 20%. L'eccellente conservazione del calore mantiene il cibo caldo a lungo. Ungi la padella in ghisa con un leggero strato di olio vegetale dopo ogni lavaggio. Questa padella non è lavabile in lavastoviglie. Lavala a mano prima del primo utilizzo. Lasciala raffreddare completamente prima di lavarla con acqua calda, sapone, una spugna e normale detersivo per le stoviglie. Il vincitore del premio è il Mopita Roccia Viva Wok. E la padella wok antiaderente che fa per te, rivestimento rinforzato, manico soft touch, multistrato antiaderente puntinato bronzo per una cottura senza grassi. Antiaderente a 5 strati, garantisce ottima resistenza a graffi e abrasioni. L'alto spesso dell'alluminio e il multistrato antiaderente permettono una cottura leggera, senza usare oli. Tra le padelle antiaderenti, Roccia Viva si adatta a tutti i piani cottura, ad eccezione del piano induzione. Il fondo è adatto a cottura gas, elettrica, vetroceramica. Soft touch, ergonomico e maneggevole. Il vantaggio del materiale soft touch è che lo rende un manico antiscivolo e antiscottatura. Tra tutte le pentole antiaderenti, Roccia Viva è lavabile in lavastoviglie. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.